La scuola che vorrei è anche un luogo dove i docenti riescono a trasmetterti le loro passioni oltre a seguire il programma professori che non leggano nozioni dai libri questa non è educazione perché ricordiamoci che i professori prima di tutto sono educatori e un professore non dovrebbe essere solamente un insegnante di matematica o di scienze dovrebbe essere un insegnante di vita vorrei che il professore non fosse solo un nostro datore di lavoro darci compiti correggere verifiche vorrei che il professore possa essere qualcuno con cui confidarsi e a cui dire le nostre problematiche senza paure o timori nella mia scuola ideale i professori non sono la cattedra ma mischiati in mezzo alle uni perché tutti abbiamo qualcosa da imparare dagli altri a